Viva San Betto! Attenzione, adesso per cortesia il bambino più piccolo che abbiamo! Il bambino piccolo piccolo, un bambino non deve sapere leggere e scrivere! Devi prendermi il seguito! Vai! Sotto! 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 si prevede una grande festa sulla panchina sicuramente la soddisfazione lo aspettavo proprio è una sorpresissima soddisfazione mi ho portato il 2009, il 2012 con la mia società adesso la vacca è solo mia lo sentivo proprio allora io non lo posso niente dire io mi ha telefonato una persona è stato romani per la porta e sale è stato così è così è stato sarà una grande festa una grandissima festa a chi la dedica? ai miei 40 anni di patrimonio che faccio, faccio romani augurialo grazie 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 grazie